SON SESSLUS SON SERIO METTETE A RISCHIA LA MISSIONE PER UNA MALATTA DI MTE SON SERIO Mettete a rischio la missione per una malata di mte vestita come un giullare di cocco Parla lui che ha una tavoletta del cazzo in testa MESSUS IN A CESTA Nessuno di noi Niente colonnello Strani scherzi Questa gente pericolosa Asurosa Fuoco tra 3 2 3 2 3 2 BASTA Cosa? Siamo venuti a salvarti Cosa? Siamo venuti Cosa? Era anche un gran piano sai Magari me ne torno dentro così mi puoi scudare Non fare la superiore Scusa tanto Anna Conoscete l'accordo Se portate a termine la missione vi scontiamo 10 anni dalla missione Se non riuscite a eseguire i miei ordini Aziono l'esplosivo piazzato alla base del vostro cazzo Ci sono domande? Oh no Sis Funziona così Se la missione fallisce morirai Se scopriamo che le informazioni che ci dai sono false morirai Se scopriamo che le informazioni che ci dai sono false morirò E se morirai Sis Che? No Se tossisci senza coprirti la Harley, e dai In ogni caso se tossisci morirai Qual è il piano? E che cazzo ne sono? Sei il leader Dovresti essere dedo Ho deciso che dovresti prenderti una vagonata di cavolo Se questa spiaggia fosse ricoperta di cacca Io direi no problem amici Perché mai? Ma gente è pazza Non lo sa se non la staff È pazza Oh mio dio Abbiamo anche un cavolo di dio dentro questo schifo